Sicuramente è una grande occasione che è perfettamente coerente con la tradizione, la storia di Torino, del Piemonte, una grande storia anche di carattere culturale. Si presenta con questa mostra di Van Dyck che viene appunto dalla collezione Sabauda, molto apprezzata all'estero, quindi sicuramente sarà una bella carta di presentazione e l'occasione anche per presentare il programma per i 150 anni, Esperenza Italia, tutte le iniziative. Quindi si incomincia dall'Unione Europea, c'è questo incontro con la Commissione Europea in cui si inizia a presentare che cosa faremo. Quindi un'occasione straordinaria, una coincidenza veramente magnifica. Contemporaneamente stiamo lavorando per la realizzazione delle opere. Il giorno 2 ho convocato il Consiglio di Amministrazione, chiamiamo tutti i soggetti interessati, speriamo per quel giorno di avere le certezze da parte del Governo che quell'impegno venga mantenuto, io penso proprio di sì, così possiamo anche decidere legare da pauto tutto quello che è necessario per mantenere i tempi. Noi ce le stiamo mettendo tutte, d'altronde quando chiediamo dei soldi al Governo come facciamo normalmente secondo una tradizione Sabauda non è una pure semplice rivendicazione perché dei 108 milioni necessari i 54 milioni sono risorse di carattere locale per un evento sì importante localmente ma soprattutto importante nazionalmente. Beh sì, è una formula che abbiamo già incominciato a sperimentare in occasione dell'Olimpia ed ormai mi pare di cogliere che ciò che viene fatto è frutto anche di una modalità diversa rispetto al passato. Ci si presenta al Bosar di Bruxelles, si stabiliscono anche delle relazioni per avere poi, come dire, un ritorno qui su questo territorio. Quindi sono sempre occasioni di scampio, di relazioni di carattere culturale che si svilupperanno sempre di più. Quindi gli effetti riguarderanno il 2011 ma anche dopo. Questa vocazione internazionale di Torino continua a essere un fatto importante e anche per il 2011 sarà un elemento caratterizzante. D'altronde quando parliamo di 150 anni sicuramente non possiamo non tenere conto che rispetto ad esempio al 1961 questi 50 anni in più sono stati 50 anni di un protagonismo italiano in Europa e non soltanto in Europa ma quello secondo me europeo importante sul piano della produzione, sul piano culturale, sul piano artistico nelle diverse articolazioni.